Si torna a parlare di crisi politica al comune di Teramo. Si è arrivati ormai al capolinea, secondo i gruppi di opposizione, che compatti firmano una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Brucchi per grave degrado del comune capoluogo. 12 firme, che però non saranno sufficienti per presentare il documento al prossimo Consiglio Comunale. Ne occorre solo un'altra, un tredicesimo consigliere che apponga il proprio nome alla mozione. Eppure ci sono sei dissidenti nella maggioranza di centrodestra che da mesi non votano più i provvedimenti della loro amministrazione e che ripetono di non condividere l'operato di Brucchi. E allora perché non firmano, dimostrando così coerenza politica, se lo chiedono i consiglieri di opposizione e a questo punto l'intera città? Lei sostiene che i sei dissidenti di fatto giocano al rialzo per i propri interessi, quindi non lo sono davvero. È un gioco politico che sta portando allo sfinimento la città di Teramo. Questi sei dissidenti devono dichiarare apertamente se stanno col sindaco o contro il sindaco, in quanto stare nel limbo per solamente chiedere una poltrona o un contendino personale è una cosa assolutamente imbarazzante e assurda per un capoluogo di provincia. Chi non firma oggi ha già dato la sua risposta e quindi a mio avviso non potrà più presentarsi in politica. Perché questi dissidenti sono dissidenti? Sembra un po' la domanda becchettiana. In realtà dovrebbero riscire loro perché sono dissidenti, perché ogni giorno apprendiamo dalla stampa che ci sono motivi diversi, da allora anche configenti l'uno con l'altro, da allora anche confusi. Quindi io devo dire che ad oggi io non ho chiaro il motivo del loro dissenso. Questa mozione di sfiducia sinteticamente cosa contiene? È una mozione di sfiducia che mette in evidenza una situazione di immobilismo inaccettabile per questa città e il fallimento del sindaco Brucchi e del centrodestra Terramano. È una città che è sotto lo scacco di 3-4 persone, di 3-4 capi bastone di una coalizione. Lo stesso sindaco si è infilato in una situazione in cui è rimasto ostaggio dei capi bastoni della sua coalizione e ha reso ostaggio il Consiglio Comunale e tutta la città. E c'è chi tra l'opposizione è ancora più amareggiato degli altri e fa una disamina spietata sulle ultime tre amministrazioni di centrodestra che si sono susseguite al Comune di Terramo e che sarebbero state un vero fallimento. L'ultimo vero sindaco, secondo il consigliere Gianluca Pomante, è stato Angelo Sperandio. Sì, è stato l'ultimo sindaco che ha amato questa città perché non si è preoccupato tanto degli interessi di partito quanto di fare il benessere dei cittadini. Qui invece assistiamo ogni giorno alla sagra del centrodestra con consiglieri che rivendicano posizioni più o meno importanti e il sindaco che cerca di accontentare tutti ma soprattutto di conservare gli equilibri politici che devono consentirgli future candidature.